buonasera buonasera ben ritrovati dentro la nostra casa ciao stefania ciao adriana ben trovati a tutti ho un leggero languorino sì perché questa sera siamo in cucina come stanza della nostra casa questa sera siamo in cucina ma noi non è che vi vogliamo dare le ricette perché non siamo non abbiamo queste qualità però abbiamo scovato alcuni accorgimenti per far durare di più i nostri prodotti per come utilizzarli meglio abbiamo tanti tanti trucchetti tanti segretini che vi vogliamo raccontare condividerli anche perché sempre di più le cose iniziano a costare in maniera folle poi ci siamo sempre più consapevoli dello spreco sì quindi come far rinvenire a volte della frutta della verdura che siamo per buttare o renderle più buone come per esempio una cosa che detesto sono i biscotti quando non sono più buoni quando i biscotti diventano o molli o troppo duri e questo succede a tutte e a me poi dispiace buttare via le cose no proprio mi dispiace qualcuno che si sacrifica però dobbiamo dirlo per mangiare gli avanti sempre sì sì ma e se non c'è nessuno bisogna buttare allora ad esempio i biscotti come dice stefania perché se abbiamo dei biscotti nel nostro barattolo ecco come si fa a non far diventare duri no questi sono i biscotti normali che devono restare morbidi vedete questa qua non li ha addirittura questi sembrano quelli che ho cucinato io già già duri di per sé allora con un trucco che è quello di inserire una fetta di pane morbido vedete si è diventato secco il pane ma i biscotti sono restati morbidi questo è pazzesco questo trucco è ancora soffice vedete come mostra praticamente assorbe la fetta stessa tutta la parte che diventa poi dura esatto esatto e quindi il barattolo di vetro o di latta è quello consigliato dove conservare i biscotti ma la cosa importante appunto è mettere questa fetta di pane carré di pan carré che diventa lui duro sì all'interno del barattolo è praticamente salva i biscotti però già aperti anche perché ogni tanto è comodo anche esteticamente è carino mettere i biscotti tutti e non lasciarli in quella scatola che si sbrindella da tutte le parti poi li prendi e la mattina stai dormendo si aprono tutti in e cadono tutte le briciole esatto poi sei bambini quindi assolutamente il barattolo tutta la vita va bene l'altra cosa il burro ecco il burro un altro tema perché poi quando l'hai aperto con ste carte che fanno giustamente poi gli imballaggi saranno sempre meno sì il pericolo è all'ordine del giorno allora vediamolo insieme eccolo qui che diventa duro subito sì beh questo poi l'ha lasciato tutto aperto proprio una maniera allora facciamo delle micro dosi quindi ne prende un pezzettino ma lo taglia direttamente con il pezzo di carta di alluminio intorno allora le porzioni piccole restano più morbide sono anche più pratiche da conservare sono un po fanno la funzione di quei burri già dosati esatto stavo dicendo che costano tantissimo sì esatto perché ci sono al supermercato le confezioni dei cubetti di burro costano il doppio il triplo ma il motivo è questo qua perché un altro metodo è tagliare il panetto di burro con delle praticamente dei fogli di alluminio cioè praticamente ogni fetta che fate così come avete visto ci mettete anche un foglio di alluminio così viene ancora più isolato viene ancora più isolato e si conserva e si conserva di più ecco adesso vediamo i cubetti questa qua è tua questa idea molto carina sì praticamente i cubetti di caffè che poi possono essere anche diciamo utilizzati in altro modo eccoli qui il ghiaccio sciolto appunto lo mettete direttamente dentro e lo fate congelare eccolo qua a quel punto vi trovate direttamente la vostra dose la mettete e via quindi per fare il lice coffee in america lo chiamano lice coffee che quindi il caffè ghiacciato invece di mettere il ghiaccio d'acqua l'idea è di mettere il ghiaccio di caffè certo per per evitare poi di anacquarlo esatto quanto lice coffee del bar un conto quando si trovi tutto il caffè anacquato che poi non è più buono quindi caffè su caffè a quel punto congelate ecco e do un suggerimento quando beviamo il caffè fatto in questo modo di mettere un goccio di latte sì perché viene buonissimo questo io non lo sapevo l'ho imparato anche questo negli stati uniti e il ghiaccio i cubetti di ghiaccio di caffè perfetto aggiungete un goccio di latte viene buonissimo e poi vabbè questa è una ricetta di chi ha il tipico frullatore diciamo che congela così dei cubetti di latte sì poi lo trita tutto e a quel punto aggiungendo il caffè viene la crema caffè e viene la crema caffè meno male che ho iniziato la trasmissione dicendo noi non vogliamo dare ricette non siamo all'altezza però vabbè vabbè queste le sono scoperte da condividere così come quella dei cubetti delle spezie esatto questa è bellissima spiega rivoluzionaria ovvero quante volte compriamo le erbe fresche ma poi o vanno male piuttosto che vanno conservate a volte abbiamo la fortuna di avere qualcuno che ha l'orto che ci porta eh sì io non ce l'ho io ogni tanto devo dire che ho qualcuno che mi dà l'osmarino ma quando sei in campagna quando sono in campagna ecco sì a quel punto non lo vorresti mai perdere sì quelle allora cosa fai li lavi li prepari e li fai in piccole dosi già dentro questi eh nei cubetti del ghiaccio sì dentro il come si chiama il porta cubetti non mi viene il nome si porta cubetti di ghiaccio attenzione che non va messa l'acqua in questo caso se voi ci mettete l'olio di oliva non solo si conserva benissimo ma avete già il soffritto praticamente questa è geniale cioè voi dovete fare i cubetti non con l'acqua e cubetti di ghiaccio ma con l'olio con l'olio allora dovete fare non solo arrosso sì tac tac c'è gente non sporcate lava il rosmarino si taglia poi ci sono i pezzettini da tutte le parti poi non è stagione a volte adesso si sta attenti anche la stagione certo certo delle verdure e quindi oppure i tortellini burro e salvia fantastici la salvia è già lì pronta già con un po' d'olio è perfetto no questo è veramente geniale è geniale lo potete fare con tutte le erbe fresche che trovate piuttosto che c'è un'altra evoluzione che poi presa dallo spunto anch'io non è che sono una che da ricette ma mi piacciono le cose un po' concrete fai sedano carota le metti dentro che è quel soffritto praticamente che è il soffritto io tolgo la cipolla perché non lo trovo mai già fatto quindi non mi piace la cipolla e lo uso però a chi piace la cipolla è vero quindi può far mettere pezzettini di carota di sedano e di cipolla con un po' d'olio e fare i cubetti è già tutto brava e quindi il soffritto è pronto anche se sporca me sporchi una volta sì sì sporchi una volta ma vai avanti per giorni e giorni sono sono d'accordo quando invece invitate un'amica a bere il caffè a casa e volete fare un figurone invece di mettere il caffè così normalmente ecco cosa potete fare per dirle che le volete bene e sì dobbiamo fare un adesso allora diciamo che è molto molto di moda il proprio sui social network impazzano quelli che fanno le schiume con con i disegni proprio va di moda quindi come fare eccolo qua ce lo fate voi con una specie di origami fatto a casa con la carta da forno fate la forma del cuore e poi lo mettete sul caffè o sul cappuccino anche sulla torta perché poi potete fare anche le scritte anche sulla torta esatto l'importante è usare la carta da forno facendo il buco della forma che vogliamo e poi potete mettere cacao cannella quello che vogliamo è così non è così complica pensa che io avevo appena comprato la formina prestampata presa da questa cosa appunto per fare cappuccino alle amiche quando venivano e potevo farlo da sola e sì potevi farlo da sola perché con la carta da forno è più semplice va bene adesso andiamo in frigorifero altra cosa il formaggio che la muffa nel formaggio dobbiamo dire che poi puzza un sacco dobbiamo fare 25 puntate per come pulire il frigo esatto 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 allora vi abbiamo spiegato di carbonato limone possono andare a rivederle certo certo c'è tutto sul sito di telenova ma evitiamo la muffa nel formaggio come eccola qua allora questo è un formaggio chiaramente ammuffito allora prendiamo la carta da forno e impacchettiamo il nostro formaggio la carta da forno è traspirante quindi questa va bene anche per per i salumi per il salame eh sì eh sì effettivamente io sapevo della ad esempio la salsiccia che si mette nella carta da forno quindi 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 come dici tu anche salumi sicuramente sui salumi sì perché comunque è traspirante poi se non vuoi lasciarli così aperti perché il cello fanno con cui li compriamo sono terri è terribile quindi bisognerebbe tirarla fuori subito dal cellofan e metterlo nella carta da forno poi la carta ti dà sempre l'idea di essere un po più sana perché poi le plastiche non sai mai che cosa rilascino anche quello quindi esatto esatto ci farete sapere va bene adesso fragole frutti di bosco qualche segreto allora qui sono i segreti anche di conservazione quindi dobbiamo dimenticarci il vecchio noi e dare proprio spazio questo è molto bello la vecchia me la nuova me è meravigliosa come 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 approccio è meraviglioso per anni cosa ha fatto la vecchia me con le fragole le ha conservate nella sua confezione di plastica tra l'altro abbiamo fatto trasmissione dicendo che tra un po toglieranno le monodosi quindi eh sì perché poi la plastica è terribile perché inquina tutto quindi andiamo verso un mondo in cui di plastica ce ne sarà sempre meno e allora che cosa facciamo la nuova me conserverà le fragole in un bicchiere di vetro per farle durare molto più a lungo quindi anziché tenerle nel loro packaging originale dove comunque attaccandosi lo mettiamo in una gialla di plastica di di vetro scusami non un bicchiere è chiuso deve essere chiuso ermeticamente quindi tenere le fragole non tenetele nella plastica in cui le comprate ma mettetele in un contenitore di vetro chiuso sigillato se poi la fragola si ammuffisce video successivo allora che cosa dobbiamo fare eccola qui la fragola ammuffita vabbè addirittura mettete tre parti di acqua una di aceto e fate rinvenire completamente le vostre fragolini ecco questo io non l'ho ancora provato eh le diciamo asciugate e poi si le sciacquate perché che puzza di aceto che schifo pare che rinvengano devo provare anche io perché purtroppo ho dovuto buttare delle fragole tra l'altro prese apposta senza uso di questo di quello si andate a male subito le fragole vanno sì quindi bisogna conservarle in frigorifero adesso che poi fa caldo assolutamente quindi conserviamone il vetro se però non le conserviamo nel vetro e diventano vecchie eccetera tre cos'erano tre di acqua e una di aceto poi le asciugate le mettete a bagno praticamente le tirate su le sciacquate e così con la panna fare che riuscirete a mangiare addirittura ma insomma se funziona secondo me marcia marcia no però quando stanno per andare le è un modo per rinvenirle mentre i frutti di bosco un altro trucco per evitare che vadano a male prima anche qui i mirtili nella confezioncina di plastica a modo dose no utilizziamo la carta da cucina che previene la formazione di muffa e questo a volte lo facciamo anche quando mettiamo lo scotex all'interno del cestini della frutta della verdura nel frigor brava che poi sono quelli che vendono anche verdi di spugnetta che ogni tanto prevengono la muffa però lì c'è tutta la frutta la verdura mescolata se però abbiamo della frutta particolare come i mirtilli lamponi ribes che hanno la loro confezioncina proviamo a mettere sotto la questo è provato e certificato vi cambia veramente la vita anche perché costano tanto sì certo certo riprende li vuole non è che si mangia tutto in un giorno certo certo no buttarle qua è veramente un dispiacere sono d'accordo allora facilissimo veloce prendete la carta la piegate si li tirate fuori mettete la carta e poi le rimettete dentro tutto qua allora vi abbiamo fatto vedere come salvare le fragole frutti di bosco adesso poi salveremo anche l'insalata noi siamo delle salvatrici di cibo però lo facciamo dopo la pubblicità rieccoci sempre dentro alla nostra casa in particolare dentro alla nostra cucina sì vi stiamo svelando tutti i trucchi sugli alimentari in modo di farli durare di più di conservarli al meglio e di farli rinvenire anche quando sembra che non ci sia più niente di fare di curarli quando sono in punto di morte ad esempio c'è questo trucco della lattuga con lo zucchero ecco che è interessante allora quando le foglie di lattuga sono vecchie e fragili normalmente le butteremmo via la vecchia me l'avrebbe buttata via la nuova me invece le metterà a bagno in acqua fredda con lo zucchero per 10 minuti e torneranno croccanti e freschi ecco questo acqua fredda con lo zucchero modo per rinvenire le foglie di insalata sì anche perché adesso si tende a cercare di comprarle proprio dal contadino quasi no ma anche nei supermercati no c'è proprio il reparto bio il reparto più a chilometri zero ci stiamo già abituando a togliere un po di plastica poi insomma finché c'è ancora ogni tanto prendiamo al volo però un bel ceppo di lattuga ti può durare anche più giorni quindi certo per insomma poi ogni tanto si fa l'errore diciamo di lavarlo tutto in una volta invece dovresti lavarlo man mano che lo usi sì anche questo è un altro trucco di lavarlo man mano che lo usi oppure di lavarlo ma asciugarlo benissimo questo è l'altro trucco io invece ieri mi sono trovata proprio in questa situazione ho messo nel bagno dello zucchero effettivamente l'hai salvata l'ho trovata più croccante e poi c'è un altro metodo sempre per fare rinvenire l'insalata allora la vecchia me l'avrebbe presa subito dal frigo remessa nell'insalata ma lasciandole in acqua fredda con per 30 minuti diventa più croccante quindi è molto importante questo passaggio con l'acqua fredda che è un po' di quella dei quando si cucina anche le puntarelle addirittura di maggio viaggio sì nelle puntarelle poi dicono di lasciarle a bagno anche tutta la notte in modo che così si arricciano addirittura comunque acqua fredda con o senza zucchero il concetto è l'acqua fredda poi se mettiamo lo zucchero probabilmente fa un po' da catalizzatore è l'invigorente anche per noi anche se non vogliamo ammetterlo certo ce n'è un'altra sull'insalata sì ce ne sono tante perché ovviamente ne proviamo tutte allora questa è la presa dal frigore si è trovata così ecco questo fa un metodo ancora diverso allora nell'acqua calda e poi nell'acqua fredda e poi nell'acqua calda e poi nell'acqua fredda finché alla fine pare proprio che si sia ripresa effettivamente è proprio quello che succede a noi quando andiamo nella spa che facciamo il percorso nell'acqua calda e poi fredda e poi calda e poi fredda siamo come delle lattughe sì siamo questa mi piace siamo come delle lattughe bellissime siamo una lattuga e questa è la lattuga quando arriviamo la sera casa stanche poi dopo un bel bagno è così è una doccia scozzese si chiama no quella fredda comunque l'estrema sintesi è che o la la fate andare solo nell'acqua fredda o acqua fredda e zucchero oppure acqua calda e poi acqua fredda però in ogni caso sono tre metodi diversi che evitano di portare la lattuga in tavola tutta moscia che è una delle cose che comunque ispira meno anche già stai mangiando l'insalata che almeno sia croccante che almeno sia croccante anche i porri possono essere rinvenuti anche i porri anche qui c'è un buon metodo allora i porri secchi si poi sono quelle cose che magari non si usano tutti i giorni allora nell'acqua li prendiamo tipo delle roselline rimettiamo le radici a quel punto tra si mantengono freschi e appariranno subito più rinvigoriti meno secchi cioè come i fiori sì come i fiori che vanno tenuti nell'acqua e bisogna cambiare l'acqua infatti più facciamo dentro la casa più mi accorgo che anche i vegetali sono proprio da curare e sì anche dopo averli raccolti veramente sì no è vero perché noi pensiamo i fiori noi li teniamo nell'acqua e cambiamo l'acqua tutti i giorni perché li vogliamo belli ma il porro in effetti che noi mangiamo è anche quello un ortaggio quindi il concetto è lo stesso da coltivare anche una volta raccolto proprio per metterlo in tavola al meglio e poi ci sono altre cose che sbagliamo con i pomodori ecco sempre un altro pezzo dell'insalata adesso passiamo i pomodori ecco allora cosa sbagliamo a fare cioè che quando il pomodoro è molle un po' raggrinzito lo buttiamo via lo dobbiamo mettere in acqua fredda per 15 minuti e dopodiché sarà di nuovo super sodo cioè una volta noi ci scoraggiamo anche eh sì perché pensiamo che io li butto eh sì perché quando il pomodoro è tutto molliccio lo butto via perché pensiamo che in realtà non sia una cosa su cui si può tornare indietro c'è l'ortaggio invece riusciamo veramente a salvarlo certo il concetto è che l'acqua fredda rinvigorisce tutte le cose quando diventano mollicce quindi l'insalata i pomodori le fragole in questo caso sì esatto però è un modo per salvare il pomodoro ecco poi però mangiatelo subito sì perché come lo mangiate con la buccia senza perché se dovete sbucciarlo ah ecco ecco esatto esatto abbiamo anche il metodo per quello vediamo il metodo allora chi ha il gas ancora che non ha l'induzione non è ancora passato al 110 io io ho ancora il gas ecco allora puoi fare questo metodo che è un po' come quello per bruciare i peletti al al peperone ecco anche al peperone si fa così allora per renderlo facile da sbucciare bisogna inforchettarlo occhio che diventa calda anche la forchetta quindi state fate attenzione e appunto in questo con questo metodo la pelle andrà subito via e poi potete anche passarlo volendo sai chi magari c'è diverticoli che gli piace il pomodoro ah certo no ma anche per fare il sugo perché per fare il sugo i pomodori pelati che si comprano è perché non hanno la buccia se vogliamo usare il pomodoro fresco facciamo così e poi possiamo fare il sugo lo stesso metodo si può fare si usa per i peperoni e così si sbucciano i peperoni e poi si possono fare arrosto al forno e sono molto più digeribili alla griglia non lo sapevo si si anche in meridione in sicilia in calabria i peperoni arrostiti vengono fatti così si mette della carta si mette una griglia il peperone sopra si brucia tutto dopo si sbuccia quindi il metodo è il metodo è lo stesso sbucciarlo con la fiamma sostanzialmente poi io penso sempre che si imbeva di gas quindi non lo so quanto quanto sia salutare cioè farlo a lungo deve essere una cosa breve beh questo non l'avevo preso del gas non l'avevo pensato no nel senso che se tu lo fai in questo come in questo suggerimento va bene perché tu lo passi lo sbucci se lo lasci lì dieci minuti secondo me va fatto va seguito ecco va fatto in presa diretta come stanno facendo qua comunque è molto comodo perché diciamo che accorcia un po' i tempi di tante altre passaggi di passate che se no sono lunghissimi da fare esatto esatto si comprano già pronte esatto però questo moto se abbiamo tanti pomodori in casa appunto possiamo usarli per fare il sugo in questo modo ecco adesso la spremuta d'arancia se non abbiamo la lo spremi agrumi ecco non mi viene la parola lo spremi agrumi diciamo anche la verità che molto spesso ce l'abbiamo ma non abbiamo voglia di tirarlo fuori dall'armadio questo è il mio caso esatto poi ne compriamo sempre uno più veloce allora ecco qua cioè possiamo utilizzare facilmente un bicchiere attenzione perché vedete invece di spremerla direttamente come fa questa signora la vecchia me certo la vecchia me lo spremerebbe così butterebbe mezza arancia perché non ce la fa più a prenderlo poi va tutto fuori alla fine e poi ne esce poco poco e poi magari c'è il tuo figlio che dice mamma hai fatto la spremuta sì questa poi dice ecco devo comprare lo spremi agrumi poi lo richiudi insieme all'altro nell'armadietto allora no prendiamo un bicchiere certo se avete la fortuna di avere queste esagonali è ancora meglio sì se è tondo non funziona deve essere un bicchiere con degli spigoli sì con degli spigoli e passate guardate che velocità pochi strumenti ma efficaci sì vediamolo un'altra volta rapidamente perché molto più succo sì sì è molto meno sporco in giro certo e anche risparmio perché comunque prendere la spremuta al bar ha sempre un costo invece fa bene berla tutti i giorni a caso sì ad esempio non ci si riaffredda in continuazione come me come sentite dalla voce infatti penso che l'anno prossimo ce l'hai un bicchiere esagonale per fare sì un bicchiere esagonale ce l'ho adesso l'anno prossimo una spremuta ogni mattina così magari vediamo se mi ammalo o meno va bene adesso il trucco che c'è adesso secondo me è fantastico questa cosa cambierà la mia vita attenzione attenzione la vecchia me e la nuova me torna ancora a colpire allora vediamo con la mela cosa possiamo fare la vecchia me lasciava le patate tutte da sole nell'interno della sua sacca la nuova me per prevenire tutti i buchini sai e tutte le fioriture gli occhietti no quelli che si chiamano gli occhietti io le chiamo le fioriture sì gli occhietti delle patate che poi le buttiamo via ancora tanto per cambiare per cambiare si mette una mela all'interno del sacchetto che è un po' il principio della fetta di pane è lo stesso principio sì da cui siamo partiti scarichiamo tutto su una cosa e gli altri rimangono più giovani quindi per evitare che le patate fioriscano mettiamo insieme alle patate una mela questo è veramente fantastica è come quella dei biscotti che abbiamo visto prima la fetta di pane poi adesso ce ne sarà un altro per conservare il pane ma il concetto è sempre quello di mettere dentro un gruppo di alimenti un insieme di alimenti un altro alimento che assorbe la negatività detto in termini filosofici è quello era poetessa va bene ecco tu hai scoperto un segreto sulla ketchup abbiamo scoperto questo segreto che però è originale adesso non abusate del ketchup per coloro che è da oggi però diciamo che nei lontani anni passati ketchup venne utilizzato da un medico per curare la diarrea l'ittero e l'indigestione questa è un po' la leggenda come la coca cola è dell'ottocento che creò addirittura delle pillole che poi furono messe sul mercato quindi insomma il ketchup non dovrebbe fare almeno così male una volta tanto accompagnato da dalle patatine ecco certo che se però prendiamo un chilo di patatine quelle ci fanno male ma io non sono convinta neanche che un chilo di ketchup non ci curi la diarrea che non ce la faccia venire però diciamo che ha qualche proprietà benefica che poi sai tutto se usato in parte ragionevole però questo pare proprio che un medico l'abbia utilizzato quindi ci piace darvi anche delle curiosità non solo i trucchi e segreti ma anche qualche curiosità poi se ne sapete altri ci potete scrivere ah certo certo ne accettiamo tutto allora ecco dicevamo i biscotti per non diventare duri abbiamo visto le patate per non fiorire il terzo questo qua eccolo allora lo vediamo insieme un altro metodo che è quello ovviamente di questo pane che a volte è meraviglioso ci toglie anche tanti problemi però di mettere una bacchetta di sedano un bastoncino di sedano all'interno del pane per togliere la muffa cioè per prevenire che si formi per prevenire la muffa sì perché il pane vabbè chiaramente noi stiamo attenti alla data di scadenza ma a prescindere dalla data di scadenza a volte succede che se lo lasciamo chiuso nella plastica ammuffisca sì poi dipende anche dall'umidità io mi ricordo sono stata in Versilia al mare c'era un'umidità mi è andato subito tutto a male il pane in bauletto così qualsiasi marca andava sempre a male quindi lì sarebbe stato veramente il sedano nel pacchetto del pane questo è un altro segreto che mi cambia la vita come quello delle patate questo sì anche perché poi il sedano quando lo prendi per i brod piuttosto che o lo mangi anche crumpo ti avanza sì 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 esatto un pezzo di sedano dentro il pane e siamo a posto l'ultimo segreto di oggi questo non ci credevo quando l'ho visto però però vediamolo lo stesso la verdura asciupata come si può fare a farla tornare sì però questo lo puoi fare al mare sì la metti nella sabbia però tu non ci credi questo lo dobbiamo provare no ma questo non è per rinvenirla ma è conservarla sì sì rimangono fresche più a lungo esatto beh ma poi comunque molti lo fanno sì di tenere quindi il caroto e le patate il sedano le cipolle nella casa al mare sì potete farlo io vorrei sapere sempre un po' che sabbia è più che altro no però vabbè che poi le lavi eh certo ma è la conservazione comunque se pensiamo il sale che cosa può fare ah certo certo dovremmo fare una puntata tutta sul sale sì perché il sale è veramente dei benefici passessi sì dal fatto che pulisce tutto al anche come alimento così come l'aceto come l'aceto faremo una puntata su sale e aceto sono i nostri idoli esatto quelli che ci hanno cambiato la vita va bene direi che abbiamo terminato grazie a te grazie a voi e alla regia alla prossima trasmissione ciao